Grazie a te, grazie a voi e grazie a tutti i relatori, senza la vostra professionalità e la vostra esperienza, la clinica e la pazienza che avete con i vostri pazienti non si può poi riuscire a condividere queste cose, perché poi nasce tutto da lì. Come si dice, la teoria si studia a scuola, ma poi nella pratica è tutto un altro mondo. Mi ricordo un po', sono un perito tecnico-elettronico prestato alla Marina Militare per 14 anni, dopo aver studiato tutta la tecnologia, arrivi sulle navi e capisci che lì stanno usando cose che... Tu hai studiato i 50 anni prima, arrivi lì e sei 50 anni avanti, dici ma a me mi hanno insegnato altre cose, come funziona? Quindi rinizi da capo, quindi penso che sia così anche in medicina, rinizi tutto da capo. Diceva Bartali, l'è tutto da rifare. Allora, siccome la giornata è stata lunga, io faccio una cosa abbastanza veloce, dovrebbe venire anche il professor Mauro Miceli e ci terrei che voi ascoltaste Mauro Miceli, perché farebbe un 20 minuti di una cosa che non si parla mai. Noi parliamo di nutraceutici, di integratori, di antiossidanti, ma non si parla mai di quanto quello che noi assumiamo effettivamente viene utilizzato a livello cellulare. Allora, quanto è importante la biodisponibilità, l'assimilazione, la capacità antiossidante di un antiossidante? Se la capacità antiossidante è importante perché devo mangiare frutta e verdura di qualità, perché mi danno certe vitamine e minerali, è chiaro che è inutile continuare a dire che le sostanze devono avere filiera corta, non allevamenti intensivi, non coltivazione intensiva, eccetera, eccetera. Però devono essere di qualità le sostanze che io ingerisco, perché altrimenti, poi se c'è un sovraccarico, disbiosi, malassorbimento, intossicazione, come faccio a utilizzare quelle sostanze se non sono biodisponibili, assimilabili e magari in forma particolare, colloidale? Io collaboro molto anche con Daniele Vietti, che insieme cerchiamo di divulgare dei concetti importanti, la biodisponibilità di quello che noi diamo. E allora, velocemente, perché già è stato detto tutto oggi, ma velocemente, se noi prendiamo in considerazione la salute e il benessere che è presa a 360 gradi e valutiamo, da un punto di vista, anche il ruolo epigenetico dei nutrienti, che comunque hanno il ruolo fondamentale. Ci sono degli studi, che poi vi manderò via email, molto interessanti, sul ruolo proprio dei folati, della vitamina B e dell'acido folico, proprio a livello di rimettilazione. Ve lo mando, perché adesso non è il caso di... È stata fatta una relazione dal professor Mauro Miceli, proprio a Bologna, su questo. Allora, se noi si continuiamo a guardare la realtà dal nostro giardino e quindi incominciamo a parlare di quadrati e gli altri parlano di cerchi o rettangoli, ebbè, non possiamo arrivare da nessuna parte, perché incominciamo a mettere delle barriere e essere sordi. Penso che questo poi sia il problema grave della nostra società. In qualsiasi campo, ognuno vuole avere la sua ragione. È vero, diceva Henry Ford, qualsiasi cosa tu dica hai sempre ragione. Bene, però è la tua ragione. È la verità? La verità non ce l'ha nessuno, però almeno confrontiamoci, cerchiamo di capire. Ecco perché poi, quando si parla di perdita di metilazione, la rimettilazione del DNA, tutti sappiamo che se ne perdiamo la telomerasi, non avviene in maniera opportuna, si va incontro alla morte, però sento poco parlare di telomeri, sento poco parlare di omocisteina, di vitamine semplici che possono rimettilare, sento poco parlare di nutraceutici come l'estenosimetionina, che negli anni 70 sappiamo quanto sia stata importante come epatoprotettore, poi scoperta l'azione antidepressiva, poi scoperta l'azione detossificante, ma sappiamo invece che ha 60 reazioni metaboliche nell'organismo la metionina. E quanti lo sanno? Ma quanta? Né troppa né poca. È un po' come le proteine, né troppe né poche. Ma guai a non darle mai. Il problema è proprio lì. Cioè l'omocisteina, se non ha la metionina, non viene riciclata, e quindi che lavora in sinergia con la B6, la B12, e l'acido folico, la biotina, la trimetilglicina, queste cose non ne parla nessuno, cioè se ne parla ben poco. Perché per esempio dare alti dosaggi di metionina probabilmente può essere sbagliato, può diventare tossica come qualsiasi sostanza, e la biodisponibilità probabilmente meglio darla sublinguale, biodisponibile, assimilabile, magari in forma colloidale. E la forma colloidale sappiamo, poi vedremo se viene il professor Miceli, quanto sia importante. Perché colloidi sono i nostri linfa, il nostro sangue, e quindi mettere sotto la lingua delle sostanze in forma colloidale, la biodisponibilità può arrivare anche al 90-95%. È importante, certo, è importantissimo. Se è vero che queste patologie, come diceva il professor Burgio, sono in continuo aumento, cominciamo a capire che probabilmente c'è qualcosa che non va. Allora, e se prevenire è meglio curare? Dicevamo stamattina, dobbiamo incominciare dall'incontro di due cellule, ebbè, quanti prendono a cuore la salute delle cellule? Eppure parte tutto di lì, dal mesenchima, il tessuto connettivo, la corretta ossigenazione cellulare. E questi sono i danni dell'inquinamento. E poi l'acqua. Ci diceva oggi il professor Spaggiari che noi siamo, si dice, 99% di molecole d'acqua, 80% di acqua. E dell'acqua non ce ne parla nessuno. Allora, se è vero che noi funzioniamo, siamo una macchina a idrogeno, e quindi dovremmo pulire, cioè produrre energia pulita, è vero anche, ecco il professor Miceli, che lì ricopriamo un ruolo chiave se noi abbiamo anche una quantità e una qualità di acqua ottimale a livello cellulare. E l'idratazione. A volte noi beviamo e pensiamo di idratarsi. No, l'acqua non entra. Perché? Perché le cellule galleggiano, no? Hanno una membrana cellulare fatta di grassi, quindi galleggiano. Quindi la cellula assimila e viene idratata da un'acqua con una struttura particolare. sennò non entra. Ecco la forma colloidale. Ed ecco determinate acque con dei sali particolari che riescono a idratare. Ma se guardate, ma se noi continuiamo a mettere l'acqua a contatto con l'esposizione dei campi elettromagnetici, queste sono microonde, queste televisioni, computer, cellulare, guardate cosa fanno i campi elettromagnetici a livello cellulare. E questo è lo studio che ho fatto vedere. Allora, entrando nella nutraceutica, qui sono tutti gli studi sulla disfunzione mitocondriale che è inutile oggi ne avete già avuto abbastanza sull'importanza proprio della linea materna, sulle patologie. No, ce lo dicevano oggi, ma quanti parlano che solo la madre può trasmettere una disfunzione mitocondriale, quindi una possibilità di patologie? Ah, guardate, questo è lo studio sulla fondazione di medicina mitocondriale, uno su 2500 persone ha probabilmente una disfunzione mitocondriale dalla nascita e quindi il motore delle cellule non va e se non vanno quelle, guai, quindi infiammazione silente dalla nascita. A volte, mi spiace, a volte non riesco a invitare sempre il professor, il dottor Sergio Stagnaro. Allora, Sergio Stagnaro ha 87 anni, però è un, probabilmente ha un modo sbagliato di dire le cose, perché comunque devi avere anche l'umiltà di confrontarti e di creare alleanze e quando tu attacchi, probabilmente a 86 anni non ha più i primi inibitori, no, non ce l'ha più perché ha fatto per 60 anni il medico, però lui dice io vi dico che è possibile valutare i reali rischi congeniti dalla nascita e capire che alla base di tutto c'è una disfunzione mitocondriale, disfunzione microcircolatoria e probabilmente il microcircolo, i DEB, che sono malformati e probabilmente potremmo fare vera prevenzione ristrutturando i mitocondri. Poi vai a leggere dei lavori scientifici fatti da queste fondazioni di medicina mitocondriale, compreso il Besta qui a Milano, effettivamente anche loro concordano su questo, però non so come mai se ne tiene poco conto. e poi la carenza di ossigeno. Parlavamo prima, ma com'è possibile che mi dai l'ossigeno solo quando sono in fin di vita? Quando l'ossigeno è fondamentale per la vita. Noi diamo l'ossigeno a noi, ce lo danno, quando sei in fin di vita ti trasportano in ambulanza la prima cosa ti mettono l'ossigeno perché se no ci lasci le penne. E come mai me lo dai alla fine l'ossigeno? Dammelo prima, magari a scopo preventivo, potrebbe essere una vera e propria possibilità di fare prevenzione? Punto interrogativo, perché però gli studi stanno andando in questo senso. E la lezione del professor Miceli anche che ha fatto recentemente a Bologna andava anche sul ruolo proprio della corretta ossigenazione. E quindi tutto il discorso dell'ossigeno, dello stress o stress sulla modulazione, beh, lo sappiamo, fino al terzo anno di medicina si studia sul testo di fisiologia medica dove viene più volte affermato che tutto parte da una carenza di ossigeno a livello cellulare e poi dopo il terzo anno di medicina non è più, non se ne segna più conto. E no, partiamo di lì, perché senza di questo dalla riduzione dall'ipossia ipostica stagnante estotostica anemica parte tutto, parte l'infiammazione silente a livello proprio del mitocondrio e quindi delle cellule e probabilmente ipostia ai cancari effetto vasbul ricopre un ruolo fondamentale, basta pensare al ruolo dell'HIF1 sulla riprogrammazione metabolica cellulare, sull'infiammazione, addirittura vanno a misurare l'ipostia nei tessuti adesso c'è questo che non lo fa vedere e poi ancora sulla cardiologia sulla rivoluzione epigenetica quindi sì genetica metabolismo ambiente ma noi siamo all'epigenetica oggi la redexomica la modulazione fisiologica dell'ossigeno a livello mitocondriale è diventata la cenerentola degli nutrizionisti sì perché il metabolismo cresce la riproduzione di sviluppo dipende dall'ossigeno come la permeabilità l'essitabilità la secrezione però non li teniamo conto probabilmente modulando il corretto apporto di ossigeno noi facciamo riduciamo l'ipostia quindi riduciamo i danni ai tessuti ma anche moduliamo una possibile ischemia di riperfusione probabilmente e gli antiossidanti modulazione dicevo prima biodisponibili assimilabili e che arrivino perché se io do un grammo di vitamina C abbiamo visto che spesso può diventare proossidante e quante ne assimilo in un grammo di vitamina C 20% perché? perché l'80% tutto viene catturato dal fegato e quindi in circolo ce ne abbiamo pochi allora la forma farmacocinetica è importante la biodisponibilità l'attività biologica le sue relazioni la struttura chimica la stratificazione orizzontale il tessuto bersaglio lettivo l'evidenza scientifica allora sì che possiamo integrare tutto un'orchestra però devono essere professori che suonano bene che sanno suonare gli strumenti giusti in questo libro abbiamo dato qualche qualche evidenza pensate però il rovescio della medaglia se iperossigeniamo probabilmente abbiamo un'arma dopo taglio perché questi bambini questi studi abbiamo già visto nei bambini in prenatale che si danno ossigeno e terapia rischiavano la cecità appena nati scusate ma sappiamo che mettere persone in camera iperbarica aumenta il tasso di radicali liberi allora se mettiamo una persona dentro la camera iperbarica per un piede diabetico probabilmente c'è un'escheria di riperfusione ritardata dopo 7, 10, 15 giorni e io non corrello con l'iperossigenazione che ho avuto in camera iperbarica do la colpa poverino è già compromesso a livello cardiovascolare certo un diabetico a chi do la colpa e probabilmente è proprio stata l'iperossigenazione che mi ha causato un aumento di radicali liberi un aumento dell'infiammazione compromissione ancora della qualità della salute di quella persona e questo ormai lo sappiamo gli studi stanno andando in questo senso questo è un altro studio guardate ipossia come obiettivo per curare il cancro beh anche questo è un altro studio importante pubblicato 21 paesi nel mondo anche questo 21 paesi nel mondo 5 anni di studio milioni e milioni di euro spesi per questa ricerca per dimostrare che riuscire a comprendere in che modo avviene la diffusione dei tumori e l'insorgenza metastasi è un problema fondamentale per la terapia oncologica un grande consorzio di scienziati europei l'ha concentrato sull'attenzione sull'ipossia e ha dimostrato che la corretta ossigenazione potrebbe essere un utile supporto alle terapie sia all'achemio che alla terapia tradizionale perché altrimenti funzionano male e già ce lo diceva Vazbo nel 1931 un altro premio nobel ma noi probabilmente il premio nobel non li ascoltiamo no? hanno scoperto no? anzi e poi eccoci incontro quindi a questo che è la modulazione fisiologica grazie al self-food che molti di voi conoscono però ci teneva a condividere gli studi perché è una tecnologia di base importante è un modulatore fisiologico in presenza lui si attiva in tessuto a domanda di ossigeno quindi nell'acqua quando io lo metto nell'acqua aumenta la disponibilità di ossigeno idrogeno nello stato nascente l'ossigeno carico negativamente diventa un antiossidante e aumenta l'ossigeno perché? perché fa questo questa è una cosa esplicativa è anche sbagliata da un punto di vista però per farlo capire in maniera veloce perché mi dice sempre Mauro no ma questa è difficile poi però è solo esplicativa se questa è la molecola dell'acqua SELFUR riesce a caricare negativamente a rendere infatti la ionizzazione la forma colloidale dimostra questo poi nello specifico fa un'azione antiossidante e quindi crea ossigeno l'ossigeno se non viene utilizzato si lega all'idrogeno e riforma acqua e quindi o ossigena quindi riattiva i mitocondri oppure aumenta la diuresi proprio perché si riforma acqua pensate che è stato ideato nel 1940 e messo sul mercato nel 69 quindi ormai sono oltre 50 anni nel mondo e 20 anni in Italia la tecnologia è straordinaria pensate che se noi mettiamo SELFUR nell'acqua aumenta l'ossigeno fino al 60% e arriva all'80% nelle 12 ore e se mettiamo SELFUR come capacità lo misuriamo come capacità antiossidante beh 30 volte più elevata del plasma umano non esiste un antiossidante così importante lo Z potenzial questa è la cosa importante che spiegherà poi il professor Miceli pensate nell'acqua la conduttanza passa da 9 micron a 192.323 e lo Z potenzial da 365 a meno 22 cosa significa? parametri simili a sangue o linfa quindi appena io lo bevo 0,64 secondi nel sangue è attivo ed ecco perché poi facciamo le formazioni sublinguali tutti gli studi clinici importanti a cominciare dallo studio della capacità antiossidante pubblicato nel 2011 dall'equipe di Benedetti e Canestrari dell'Università di Urbino che ha dimostrato proprio la protezione sulle cellule sulle cellule quindi a livello proprio delle molisi quindi la capacità anche di proteggere il DNA dall'ossidazione aumentare quindi la capacità di difesa nei confronti delle molecole ossidanti e poi uno degli studi più importanti della Ferrero qui a Milano ne hanno fatti parecchi sia sulle cellule e poi in vitro e poi in vivo questo è uno degli studi più importanti che dimostra su cellule in cultura prima di tutto non altera né la vitalità né la morfologia delle cellule endoteliali quindi è molto selettivo ma lavora sulle cellule malate cioè l'esposizione breve o prolungata del self-food aumenta il consumo di ossigeno preservando l'attività mitocondriale e guardate cosa riesce a fare queste sono le cellule endoteliali in ipossia aggiunto il self-food le cellule fanno questo e cosa vuol dire vuol dire che noi attiviamo prima a livello nucleare poi attiviamo l'attività mitocondriale e poi facciamo un antiossidante e riattiviamo l'ATP la produzione di ATP a livello mitocondriale pubblicato poi abbiamo fatto gli studi sulle linee leucemiche questo è pubblicato dalla clinical cancer research dell'istituto tumori regina di Roma che ha dimostrato l'attività sulle linee leucemiche naturalmente self-food non cura i tumori non cura le malattie ma cura lavora sulla cellula quindi sull'attività mitocondriale della cellula non è un farmaco però è interessante modulazione del P53 come ci diceva anche questa mattina il professor Biava è importante sentinella straordinaria e self-food lavora sulla modulazione del P53 proprio potrebbe essere un utile complemento per la prevenzione e per il supporto nelle varie terapie e poi sulle patologie infatti è stato messo come sull'onco target è stato pubblicato nel 2005 sapete che questo è un imperfactor molto alto come rivista è stato messo self-food proprio come un ottimo nutraceutico per mandare in apoptosi le cellule e poi gli studi sulli sportivi sia sull'abbassamento del ritmo cardiaco sull'aumento dei globuli rossi i globuli bianchi eccetera eccetera gli sportivi gli atletici poi sulla fibromialgia quanto è importante la fibromialgia voi pensate che questo studio ha dimostrato sulle pazienti che non rispondevano più alla terapia convenzionale che con 14 gocce tre volte al giorno associato anche all'estosimetionina quindi al same in tre mesi queste donne hanno ritornato a fare una qualità della vita ottimale 14 gocce tre volte al giorno in un bicchier d'acqua tre mesi è stato pubblicato su Reumatismo e poi sulle patologie neurodesenerative primo studio su 50 pazienti poi su 230 pazienti e adesso ne abbiamo uno che ci hanno consegnato recentemente su 1300 pazienti sulle patologie neurodesenerative viene utilizzato a 20 gocce tre volte al giorno associato alla terapia chelante quindi la creazione dei metalli pesanti e questi sono studi pubblicati su riviste internazionali controlli pazienti e malattie neurodesenerative prima e dopo si è visto una diminuzione dei radicali libri l'aumento della capacità antiossidante ma quello più interessante la diminuzione sulle LDL ossidate e quando noi dimostriamo che un integratore abbassa le LDL ossidate sappiamo che quello è veramente un antiossidante è lì che è il biomarker fondamentale e ci permette proprio di capire queste cose che potrebbe essere veramente un prodotto utile di base per disintossicare riattivare il mitocondrio e poi dare i protocolli che sei abituato a dare questo fa naturalmente per chi non lo sa o non l'ha mai usato self food funziona e siccome funziona riattiva il mitocondrio e aumenta il consumo di ossigeno bisogna fare piano si deve iniziare così una goccia tre volte al giorno poi si aumenta gradualmente fino alle otto gocce tre volte al giorno nella fibromialgia si arriva a 14 per 3 nelle patologie neurodegenerative fino a 20 per 3 in oncologia il professor Biava lo dà fino a 25 gocce tre volte al giorno a supporto e i risultati sono molto interessanti queste sono le indicazioni che hanno messo a punto il comitato scientifico e adesso parliamo di biodisponibilità ci tengo in modo particolare ci ha tenuto in modo particolare avere qui il professor Micelli proprio per questo spicce che poi deve prendere il treno quindi me le dà grazie